Oggi il Consiglio ha approvato la legge Nuova Pescara, finalmente viene dato seguito alla volontà referentaria dei cittadini che si sono recati alle urne nel lontano maggio 2014. Come tutti sanno il Movimento 5 Stelle presentò subito la proposta di legge per la fusione dei comuni ad ottobre 2014, poi si è tergiversato. Dopo 4 anni di duro lavoro in commissione siamo riusciti ad approdare a questo testo di legge che certo non è il massimo però dà il via al processo di fusione. La notizia è di rilevanza sia regionale ma anche nazionale perché è il primo progetto di fusione di questa dimensione. Il polo metropolitano che nascerà farà da traino per tutto il Medio Adriatico, competeremo con città come Bari, come Ancona, verranno riallineati i bilanci dei tre comuni, quindi ci sarà un'unica cabina di regia per i trasporti, per l'urbanistica, per la promozione turistica, per il servizio di gestione dei rifiuti, ovviamente ci saranno anche tagli ai costi della politica, tutto questo a beneficio dei cittadini.